Molte città italiane ed europee hanno il proprio festival del cinema, tante volte prestigioso, però forse solo Firenze ha il festival dei festival, ovvero la 50 giorni di cinema, la presentiamo tutti gli anni, la presentiamo con Stefania Ippoliti che è venuta a trovarci e che si è inventata questa formula geniale di mettere insieme cose interessanti, belle, più o meno di valore che messe tutte insieme hanno generato una sinergia veramente inedita. Si parte anche quest'anno? Si parte, ci siamo, partiamo il 29 col festival di cinema francese Fonsaudéon, bellissimo festival, scoppiettante, pieno di protagonisti, di prime internazionali, di attori, di attrici, di protagonisti del cinema francese che come sappiamo è vivacissimo. Fra l'altro quest'anno Fonsaudéon celebra una festa, perché in realtà, come voi sapete, l'abbiamo già detto anche insieme, Fonsaudéon ha raccolto il testimone di Fonscinema, il primo festival di cinema francese che dobbiamo Aldo Tassone. È nato nell'85 quel festival. È un'esperienza straordinaria. Magnifica, magnifica, che ha portato a Firenze grandissimi della Nouvelle Vague, tutto il cinema francese e dunque giustamente Fonscinema che ne ha raccolto l'eredità lo festeggia. Quindi 30 anni di cinema francese, più queste edizioni attuali di Fonsaudéon. Ed è bellissimo vedere quanto il pubblico abbia imparato ad amare, a conoscere e apprezzare la cinematografia dei nostri vicini francesi. Ora, con la Francia abbiamo naturalmente una storia lunga, come ricordava, con altre esperienze una storia meno lunga, eppure anche lì, questa 50 giorni di cinema ha avuto la funzione sia di essere una grande opportunità di vedere cose che non si possono vedere, purtroppo, nel senso che non girano, non sono le cose blockbuster, vengono distribuite molto facilmente, ma anche una funzione, se mi permette, quasi pedagogica, vorrebbe da dire, nel senso anche di educazione ad altri cinema, ad altri mondi, ad altre storie. Sì, noi pensiamo che il cinema sia efficacissimo per farci conoscere altre civiltà, altri paesi, anche lontani, e pensiamo che questo serva a avere più confidenza con le culture degli altri, con la loro civiltà, e di fatto averne meno paura. Questo è anche uno dei motivi che ci ha spinto a scegliere un po' la parola d'ordine, quella che ci ha ispirato nell'edizione di quest'anno, e che ha ispirato a tutti i direttori dei festival, l'inserimento in programma di qualche film che affrontasse questo argomento, e è essere umani. Noi abbiamo pensato che di fronte a quello che sta succedendo, di enormi movimenti di popoli, di persone che scappano per mille motivi, e che noi abbiamo evidentemente difficoltà ad accettare, perché ne abbiamo paura. Forse anche il cinema, noi siamo fiduciosi di questo, può fare una piccola cosa, può aiutare ad abbattere qualche preconcetto, qualche pregiudizio, perché facendoci conoscere gli altri, noi pensiamo sempre che capiamo che poi le differenze non sono così enormi. I temi di attualità sono tantissimi, ma questo richiamo all'essere umani è straordinario, perché in realtà in gioco quello che ci stiamo giocando in questi momenti così drammatici è proprio la nostra umanità, cioè noi rischiamo di perdere umanità nel momento in cui diciamo, o pensiamo, o facciamo delle cose contro chi annega, ad esempio, per cercare di salvarsi. Perdiamo noi umanità, oltre che loro la vita. Ed è talmente terribile il fatto che poi finiamo con l'assolverci, e del resto non siamo nemmeno individualmente da condannare, quindi senza voler dar lezioni a nessuno, che non siamo nessuno nella posizione di farlo, però crediamo che la cultura e il cinema, in questo è un alleato preziosissimo, possa fare un piccolo percorso. C'è un bel trailer della 50 giorni di cinema, guardiamolo insieme. C'è un bel trailer della 50 giorni di cinema, guardiamolo insieme. C'è un bel trailer della 50 giorni di cinema. L'elenco è lungo perché c'è Immagini e Suoni dal mondo, c'è il cinema e le donne, anche questo internazionale, molto bello, il Florent Square Festival, anche questo era una monade che viaggiava per i fatti sui e l'avete riacchiappata, ma stanno con piacere insieme tutti questi soggetti così diversi tra di loro. Sono più di dieci anni ormai che questi festival stanno insieme, che si conoscono, che si frequentano, ma che veramente lavorano insieme è da quando esiste la 50 giorni. Ci sono storie lunghissime, i popoli che ne hanno, mi sembra, 56 di compleanni, quindi davvero tanto, ma in qualche modo si sono sempre conosciuti, ma magari si guardavano un po' alla distanza. Adesso sono un gruppo, si aiutano, collaborano, noi siamo abituati a proporre anche delle cose insieme ai festival durante l'anno e spesso sono fatti da più di un festival insieme ed è bellissimo vedere questo. È anche molto bello vedere che il pubblico si mescola, magari gli appassionatissimi del Festival dei Popoli che hanno cominciato molti anni fa a seguirli sul documentario sociale, si sono poi incuriositi alle storie che ci porta per esempio lo schermo dell'arte, i documentari d'artista o sugli artisti o alle vicende di genere che ci racconta il queer. Dunque è molto bella questa cosa. È molto bello, abbiamo citato lo schermo dell'arte, il Festival dei Popoli, il River to River, perché è il festival del cinema indiano che ci fa scoprire anche qualcosa di diverso dall'immagine monografica della cartolina di Bollywood insomma, è molto di più il cinema indiano. Sì, anche perché Selvaggia Velo che è la direttrice del festival ha portato qui da noi a Firenze in Italia l'unico festival dedicato a questa cinematografia, il cinema d'autore indiano, quindi un cinema prezioso, molto diverso dalle coreografie gioiose di Bollywood. Poi ogni tanto ci regala anche qualche musical bollywoodiano che è molto divertente. Fra l'altro, come sapete, ogni tanto gli indiani cambiano scenario per le loro storie che sono un po' quelle, un po' tipo il nostro melodrama e li ambientano in giro per il mondo anche qua a Firenze e anche in Toscana, dunque è anche poi divertente vedere le loro storie bellissime, variopinte, ambientate, non lo so, alle terme di Montecatini oppure insomma scenari che ci sono familiari. Stiamo parlando della più grande industria cinematografica del mondo, probabilmente con più di un film al giorno prodotto negli studi di Bollywood cosiddetta, una finestra sul nord, però non possiamo non parlare del cinema ritrovato che si svolgerà negli ultimi giorni di novembre. Di che cosa si tratta? Si tratta di una cosa preziosa a cui noi teniamo molto che è un prodotto del lavoro importante che fa la Cineteca di Bologna. Noi anche, come sapete, siamo una mediateca, la Mediateca della Toscana, la Cineteca di Bologna è naturalmente per noi un punto di riferimento. Fanno un lavoro eccellente di restauro delle pellicole e fanno l'estate in Piazza Maggiore a Bologna una magnifica rassegna di cinema ritrovato con migliaia di persone sedute in piazza davanti a uno schermo grandissimo che guardano i capolavori del passato, che spesso nessuno di noi ha visto sullo schermo grande o molti delle nuove generazioni. Sicuramente non li hanno visti sullo schermo. Esatto, allora abbiamo chiesto a Gianluca Farinelli, che è un po' l'anima della Cineteca di Bologna, di voler scegliere una serie di film da proporre al pubblico fiorentino. Fra l'altro Firenze e Bologna su questo hanno dei pubblici anche simili. Quindi noi speriamo che vengano un po' di bolognesi a seguirci qui, come noi andiamo l'estate a appassionarci a questo tipo di cinema. Valorizziamo queste cose perché ad esempio a Parigi c'è un cinema dove la domenica pomeriggio si va e si guarda appunto il cinema ritrovato. C'è i vecchi o i vecchissimi film ed è una grande esperienza che ci fa dire ah guarda cosa accade a Parigi, qualche volta accade anche da noi. Accade molto anche da noi effettivamente perché Cineteca di Bologna per esempio con l'aiuto nostro qui in Toscana fa circolare nelle sale di sé il cinema ritrovato. Quindi anche il pubblico, anche quello che non necessariamente frequenta i festival ha modo di vederlo nel suo cinema di riferimento. Ci tenevamo a regalare una quattro giorni di cose preziose e bellissime e divertenti. 50 giorni di cinema, tutto questo con sullo sfondo la discussione su una nuova legge che potrà riguardare il cinema. Ci racconta di questo in breve? Sì, il 30 mattina ci sarà un po' un punto della situazione a Palazzo Sacrati Strozi, il palazzo della Regione in Piazza del Duomo. Perché il direttore artistico di Fonso Deon, che meglio di noi frequentando il mondo del cinema d'oltre Alpe, ha pensato di proporre in qualche modo e di suggerire che si studiasse la legge del cinema francese che esiste da molti anni e che evidentemente dà ottimi frutti, perché come sapete tutto questo comparto in Francia è molto forte, robusto, le sale funzionano bene, si produce tanto, c'è tanto cinema francese che obbligatoriamente va in giro nelle sale e le televisioni devono contribuire al fatto di finanziare facendo i committenti di questo tipo di cinema. Allora, la senatrice Di Giorgi, che è la prima firmataria, ha deciso di presentare un disegno di legge ispirato al sistema francese, è stato depositato e ora comincia il suo percorso di discussione, di confronto con le categorie del settore e non solo. Il 30 si parlerà proprio di questo con tanti ospiti francesi, fra cui Garrel, che è un personaggio importantissimo nel cinema francese, che ha anche una parte di programmazione del festival dedicata insieme al figlio, sono una dinastia di cineasti e attori e sarà, crediamo, interessante ascoltare e capire che cosa potremmo fare perché il nostro cinema si affermi sempre di più, noi vi facciamo molti premi, abbiamo tante soddisfazioni, ma spesso sembra che ci attestiamo sull'eccezionalità, sul caso. Noi vorremmo invece che tutto questo funzionasse in maniera più affidabile, più strategica e continuativa. Grazie Stefano Eppoliti.